Un altro concorrente che si gratta la testa. Ciao, chi sei? Come ti chiami? Flavio. Flavio, da dove? Stai lì tranquillo. Flavio della Flavio. Giardiniere, giardiniere pubblicità. Dov'è il furgone? No, no, sei in video, tranquillo. Flavio, sei emozionato, immagino. No, ce l'ho fatto. Sponsorizzano i miei due... Presentaci, li vicini più vicini. Stefano e Alessandro, i miei soci. Ma ragazzi, vabbè, a voi posso farvi una domanda? La facciamo te che sei il concorrente. Ma ti piace più il Wuster o la patata? La patata. Ciao, buon divertimento. È arrivato un altro? È arrivato il capo. Ah, è il capo della sedizione. Presidente, vuole dire qualche cosa? Dì, dì che siamo i migliori. Siamo i migliori. No, volevo dire un'altra cosa. Non dire io alla cicetta perché... No, la domanda gliela faccio io. Lei preferisce il Wuster o la patata? Il Wuster o la patata? Diziamo alla patata. O diversamente la cicetta. No. Arrivederci, Presidente. Bocca al lupo. Grazie per la patata.